punto zero il tuo magazine quotidiano punto zero oggi è dimensioni sconosciute e ritorniamo a dimensioni sconosciute buongiorno ritorniamo perché è un appuntamento ormai seguitissimo che ogni due settimane ritroviamo ritroviamo oggi naturalmente luigi zumpano buongiorno buongiorno a tutti e daniele bulla buongiorno ciao ci sei mai mancato un sacco l'ultima volta influenzato adesso mi sto riprendendo capita capita e dimensioni sconosciute oggi vediamo quale sarà il territorio sul quale ci avventureremo perché naturalmente per chi per caso si fosse messo in collegamento solo ora e non avesse seguito le puntate precedenti abbiamo la parte più spirituale anche la parte un po più scientifica storica di storica insomma di sperimentazione legato a tutto quello che ci sta intorno ecco luigi di cosa parliamo di cosa parliamo esatto avevamo pensato con daniele visto che abbiamo detto affrontiamo un argomento per volta oggi vogliamo parlare in modo anche magari non proprio specifico c'è nel senso che non possiamo fare sperimentazione qui però parlare delle percezioni quindi delle energie dal mio punto di vista come si può percepire e daniele chiaramente ha tante altre argomentazioni quindi si può andare fino a parlare un po della guarigione quindi guarigione spirituale l'autoguarigione quindi possiamo parlare un po di 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 è un argomento ma poi in effetti è qualcosa che che noi sperimentiamo tutti i giorni noi vogliamo stare bene tutti i giorni non è quello è quello a cui si aspira intanto però noi aspiriamo anche ad avere tanti vostri sms o vostre telefonate per dubbi domande curiosità alle quali naturalmente gli ospiti qui presenti risponderanno quindi se avete qualcosa di più inerente all'aspetto spirituale sicuramente risponderà luigi qualcosa più più tecnico risponderà daniele o viceversa è perché poi su uno stesso tema ci può essere il diverso punto di vista quindi ricordo naturalmente 3 4 2 13 0 1 9 8 9 per i vostri sms o messaggi whatsapp 0 5 1 6 3 8 9 1 1 7 per le vostre telefonate siamo in diretta sul canale 196 del digitale e sul 110 anche di nuova rete eccetera eccetera poi se ci state guardando sapete dove dove siamo e ci sarà però una novità che andremo a raccontare più tardi intanto voi iniziate a prendervi vicino carta e penna perché se foste interessati a partecipare dal vivo a una trasmissione tra pochissimo diremo quali sono i punti di contatto e daniele vuoi partire tu beh guarda siccome mi piace sempre parlare così a largo spettro come argomenti no perché le persone poi che ci ascoltano possono avere interessi anche diversi per cui uno di quello che uno degli argomenti sicuramente quello della guarigione anche della pranopratica che è un'altra tecnica collegata ad esempio a fenomeni di guarigione però si può parlare anche di luoghi luoghi dove la gente va per pellegrinaggio detti anche luoghi di guarigione o luoghi di potere luoghi di forza cioè luoghi particolari dove i nostri predecessori hanno costruito per esempio antichi templi o antiche chiese e io credo che non l'abbiano costruiti a caso perché proprio lì perché proprio ci sono dei fattori energetici che caratterizzano ogni posto e anche di questo mi piacerebbe parlarne poi se qualcuno degli ascoltatori ha da segnalarci anche qualcuno di questi posti bene se no poi vi racconterò una mia esperienza fatta di recente proprio in uno di questi luoghi carismatici eh sì anche perché al di là di quello che si sapeva un tempo ovvero che molti templi venivano costruiti vicino a luoghi con acqua perché l'acqua è considerata magica in quanto potendo entrare nella terra la rende fertile ma parte quello ci sono comunque dei luoghi che proprio insomma hanno eh diciamo più esperienze sono state riportate mi sembra un mitreo a roma che è proprio costruito sopra e sotto c'è tutto un percorso di acqua sotterranea perché l'acqua che si muove genera comunque delle frequenze delle vibrazioni dei movimenti che si trasmettono per via solida al verso l'alto e quindi vanno a interessare anche le persone che eh soggiornano in quel momento in quel posto no quindi beneficiano di questa irradiazione che cosa serve serve a sicuramente io credo l'ipotesi più probabile serve a facilitare uno stato modificato di coscienza previsto e quindi a facilitare una meditazione una concentrazione che magari è fatta per motivi anche religiosi insomma no quindi se c'è bisogno di avere una particolare situazione in cui noi siamo raccolti noi stessi avere questa radiazione che ci prevale tutto il corpo ci ci aiuta ecco a portarci in quella risonanza con quell'ambiente ecco io a questo punto rivolgerei una domanda a luigi perché abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti della dell'importanza di tenere aperti i canali di comunicazione quindi in teoria in qualunque luogo chiunque imparando a tenere aperti i canali di comunicazione può mettersi in contatto con chi ci sta intorno insomma e quindi dal tuo punto di vista esistono luoghi dove questo è più facile dove questo è più frequente oppure dal tuo punto di vista il luogo è abbastanza indifferente insomma no diciamo così guardando osservando le cose ci sono luoghi che hanno come dire che raccolgono in sé per la storia passata un'energia però questa energia esiste dal primo momento che l'essere umano la percepisce che la fa sua noi siamo un campo come direbbe daniele un campo energetico vibrazionale ci sta daniele si può andare quindi noi per forza di cose interagiamo cioè prendiamo informazioni e come dire stimoli da dall'esterno c'è questo interscambio energetico con l'esterno che poi crea qualcosa in noi e c'è una nostra reazione quindi tutto questo deve essere comunque percepito questo è anche il motivo per cui a volte come dire le nostre situazioni della vita prendono una piega anziché un'altra dipende molto da come noi sappiamo elaborare ciò che ci arriva e questo come dire è un lavoro che bisogna fare ci vuole una consapevolezza profonda e una grande comprensione bisogna bisogna dare alla mente la possibilità di poter far esprimere l'anima allora si crea un equilibrio altrimenti noi ragioniamo solo per quello che sappiamo per in base alla nostra educazione credenze e quant'altro cose di cui abbiamo ogni tanto parlato quindi entrambe le cose sono giuste ad esempio i luoghi che diceva daniele perché in certi luoghi accadono miracoli dal mio punto di vista è comunque un'energia tante persone pregano insieme questa energia di amore verso qualcosa verso qualcuno fa cadere qualcosa sul piano fisico però questo non è detto che succeda faccio per dire a me giugorio c'è per forza oppure a lurdo in un altro posto no con determinate condizioni potrebbe cadere ovunque però poi ci sono posti sono io conosco persone sono andate in visita alle piramidi non sono riuscite ad entrare tanto avvertivano questa energia forte altre persone ugualmente sensibili non avevano la stessa sensazione quindi il luogo ha un suo perché una sua importanza e la persona fa il resto chiaramente ed è arrivato il primo degli sms al 342 13 01 989 e non si firma ma domanda ma come si fa a mantenere aperti i canali di comunicazione puoi rispondere tu io potrei aggiungere che secondo me quello che tu hai detto e che ha risposto luigi correttamente è giusto ma i canali non devono sempre essere aperti in ogni momento anche perché mantenere sempre aperto il proprio campo vuol dire interagire in ogni momento e quindi anche assorbire cose che sarebbe meglio non assorbire quindi bisogna essere in grado di aprirli quando vogliamo aprirli ok e quindi li apriamo quando li vogliamo aprire una volta che abbiamo capito come aprirli arriviamo alla domanda adesso faccio un esempio parlando della medianità ma vale anche per qualsiasi altro tipo di percezione noi abbiamo la possibilità dentro di noi di come dire avere la percezione di vibrazioni che vanno oltre il nostro percepire con i comuni sensi ok però non li utilizziamo faccio un esempio noi di solito ci affianchiamo a una persona magari che non conosciamo e ce la presentano istintivamente noi a volte diciamo mi sta simpatica oppure non riuscivo a stargli vicino ho idea che quella persona sia in un certo modo voglio dire comunque istintivamente abbiamo dei meccanismi che oltre al fatto di doverlo toccare o di guardare ci fanno dire se una persona la sentiamo in un certo modo oppure no vale lo stesso quando entri in un posto in una casa dove due persone hanno fatto una forte discussione ad esempio lo sentiamo lo avvertiamo e questo è una cosa comune a tanti ok quindi si tratta di con degli esercizi di capire quando io metto in atto questo meccanismo quando apro quelle porticine interiori interne che riguardano chiamamelo come vogliamo la sensitività la sensibilità e mi metto facciamo un esempio più semplice se io voglio quando mi avvicino una persona decido volontariamente con la mia volontà di dire è vestito così ma non mi interessa come vestito come porta voglio andare vicino e capire che cosa sento da qua da qua dalla pancia per chi non sta guardando dallo stomaco sì quindi capire che sensazioni mi arrivano dicendo in questo modo io già apro in un certo modo un un canale do la possibilità a qualcosa che ho dentro di me di interagire con l'altra persona quindi c'è un'energia verso un'altra energia ritorniamo su questo punto tra pochissimo non andate via rientriamo in studio beh l'argomento che aveva iniziato appunto Luigi è parecchio interessante ma vi vedo anche molto interessati a sapere come poter partecipare dal vivo a queste trasmissioni che così apriamo una piccola parentesi naturalmente non sarà un salotto a tre come in questo momento ma sarà qualcosa di un po' più articolato poi con Luigi e Daniele appunto spiegheranno un pochettino meglio di che cosa si tratta intanto visto che è arrivato sia un sms che una telefonata durante la pubblicità possiamo dire che la prossima trasmissione nella quale ci sarà la possibilità di partecipare come pubblico è l'11 martedì 11 di novembre fra le 13 e le 14 naturalmente è sempre qui presso gli studi di Punto Radio, Sette Gold, Nuova Rete eccetera eccetera per mandare la vostra candidatura diciamo o lo fate direttamente sulla pagina facebook dimensioni sconosciute oppure se non avete facebook potete anche mandare un sms come l'amico che ha fatto in questo momento lasciando il numero di telefono quindi al 342 13 01 989 vi ricontattiamo e nel corso della trasmissione di oggi vi diremo anche qual è un'email al quale potete poi scrivere benissimo ritornando invece alla questione energia eravamo rimasti se ci mettiamo in contatto con qualcun altro e proviamo a sentir con la pancia qualcosa ci arriva volevo soltanto concludere dicendo questo era proprio a conferma anche di quello che diceva Daniele non è sano appunto tenersi sempre come dire aperti e disponibili a questo tipo di comunicazione bisogna proprio disciplinarlo cioè voglio dire noi discipliniamo tutto anche quando io voglio toccare qualcosa decido se toccarlo o quando voglio sentir l'odore di un cibo decido se fa allo stesso modo perché comunque non è sano non è sano c'è nel senso ad esempio quando faccio una una dimostrazione pubblica o una seduta privata dedico quel momento a quella persona il momento quella persona è la mia persona più importante perché ha bisogno e quindi c'è un momento un'ora ok in cui dedico tutto me stesso a quella persona e chiedo al mondo spirituale chiedo quello che devo fare e lo faccio dopodiché ringrazio e come dire chiudo questa cosa però per rispondere alla domanda proprio è un allenamento cioè si capisce quando qualcosa accade quando lo provi tante volte l'energia cambia succedono delle cose e capisce quando sta succedendo qualcosa quindi richiede un po' di lavoro su se stessi diciamo che ripresenta che abbiamo comunque sempre dei canali al di là di questi canali di cui si sta parlando che eventualmente bisogna attivarli con certe pratiche per chi non ce li ha eventualmente tanto attivati abbiamo tanti canali secondari che sono sempre aperti che ricevono energia se pensiamo a quello che è la medicina tradizionale cinese che ci dice che abbiamo migliaia di punti di agopuntura di meridiani di centri energetici primari e secondari che vengono chiamati anche chakra quelli più importanti certo la scienza ufficiale non ha confermato in modo definitivo però in realtà esistono anche molti che utilizzano questi canali anche per fare delle terapie quindi vuol dire che effettivamente c'è un flusso energetico io penso che questi canali sono sempre aperti quindi comunque noi attraverso questi canali possiamo anche avere delle informazioni che arrivano al nostro inconscio e come diceva Luigi magari attivano certe risposte a livello istintivo dell'essere umano ecco naturalmente appunto lavorare per allenarsi a tenere aperti questi canali partendo sempre però mi verrebbe da aggiungere dal presupposto di non dare cose per scontato nel senso che poi si rischia a volte di travisare le cose perché si è troppo confidenti della percezione che si riesce ad avere io dico sempre sbagliano anche i macchinari in ospedale oppure alcune diagnosi bisogna sempre come dire essere accorti uno perché bisogna avere un grande rispetto per la persona che ti è davanti sia che soffra perché magari ha perso un figlio ossia perché c'ha un qualcosa cd fisico cioè quindi un una malattia quindi cioè ciò che dai deve essere anche portato in un modo come dire coerente e anche come dire essere informato su chi è davanti che sono persone che prendono determinate cose in un modo e altre che invece come dire le lavorano in un altro quindi veramente ci vuole un garbo e un'accortezza che io penso quello ci voglia sempre io credo che non andare appunto oltre i mestieri poi magari in modo particolare ma vabbè la nostra mente comunque può fare tantissimo perché io per esempio mi ricordo che poco tempo fa in una manifestazione pubblica che magari potremmo anche se ci c'è la modo ripetere qua nei nostri studi con una persona che era una dottoressa un po' scettica riguardo a questi canali chiamiamoli canali non chakra o cose del genere ho detto ma guarda prova a fare un'esperienza prova a pensare mentalmente che stai aprendo questo canale e abbiamo visto che effettivamente questa energia l'abbiamo visualizzata proprio come immagine si è aperta quindi il fatto di avere un'intenzione fa sì che noi possiamo comandare un po' tutto il corpo mi ricordo che c'era un maestro di qi kung cinese che veniva una volta in italia adesso non viene più che era in grado di comandare tutto il suo corpo perché lui si concentrava diceva adesso accendo i chakra del palmo della mano ci sono dei chakra anche qua oppure accendo questo punto accendo quel tasto quest'altro tu lo vedevi e c'era un medico che aveva una macchina termografica che quindi vedeva la temperatura e il calore vedevi che c'erano delle zone che si raffreddavano e delle zone che si riscaldavano ma era sicuramente una volontà che partiva da lui e che poteva comandare un po' tutto il flusso del suo corpo quindi c'è anche questo aspetto qualcosina siamo in grado di fare infatti in parte forse rispondi a questo sms che domanda a volte non potrebbe essere anche suggestione io penso questo io credo soprattutto parlandoci di voi regioni visto che abbiamo detto non bisogna dare magari falsa speranza ci mancherebbe altro però io credo questo il corpo fisico non può fare altro che adattarsi alla come dire volontà dello spirito è lo spirito che guarisce il corpo però se o che lo fa ammalare a seconda bravissima perché è con la mente che tu dai un'intenzione o un ordine questo è cioè come dire bisogna comprendere che questo funzionamento noi ce l'abbiamo sempre cioè siamo esseri umani abbiamo queste percezioni, queste energie che si muove sempre non possiamo fare diversamente per rispondere prima all'altra domanda che tu dicevi io ho visto da poco in televisione ma l'abbiamo visto tutti ho visto in America ci sono quei guaritori che fanno quegli show enormi dove mettono subito la mano poi cadono le persone cadono all'inghietro se noi come dire togliamo un attimo lo show e guardiamo io ho guardato quello che succedeva e poi mi sono accertato che la guarigione ci fosse in alcuni casi c'è e come in effetti che cosa fa per un attimo ti dà una fede immensa che tu fai tua e fa in modo che la mente si metta un attimo da parte tac fatto cioè l'energia lo spirito cioè ti guarisce all'istante noi cioè siamo già così non abbiamo bisogno io quando andiamo su un altro piano medialità psichica a volte faccio fare semplicemente un disegno un uovo faccio dividere in due poi fanno li colorano dopo dico soltanto che questo era il passato questo è presente e questo il futuro se un'altra persona legge il colore della persona gli dice la sua vita e quasi sempre l'altro dice sì è successo così se c'è quell'intenzione entri in una in una sintonia l'energia ti dà le informazioni devi volerle leggere devi volerle avere allora dopo si superano anche i colori della pelle cioè possiamo ridirlo questo il colore della pelle la religione se vieni da una nazione anziché un'altra cioè veramente dopo diverrebbe proprio stupido ragionare in questi termini ma vedi l'altro come te e c'è stato qualcuno che ha detto no ma io per rispondere a quella sms che è arrivato non credo siano fenomeni solo suggestivi ci sono anche le suggestioni certo che ci sono però non sono suggestivi che perché ad esempio sull'agopuntura ci sono diversi studi che evidenziano e c'è anche il modo di misurare che esistono questi canali poi faccio un esempio parliamo del canale adesso non dei punti dell'agopuntura del canale proprio energetico che qualcuno chiama chakra della corona non ha molta importanza quello che c'è sopra la testa insomma tanto per intenderci per caso due studiosi americani due fisici hanno fatto degli esperimenti nel Maryland e hanno scoperto che tutte le persone hanno un campo energetico sopra la testa un campo energetico misurabile con delle macchine che misurano una vibrazione in una particolare camera con una campana che loro proprio misurano e non sanno neanche loro come spiegarsi perché questo campo cambia da persona a persona non c'è una definizione siamo in un ambito che per la scienza è nuovo quindi gli scienziati sono ben accorti a dare interpretazioni però il fatto che oggi si riesca a misurare un qualcosa che vent'anni fa non si poteva misurare toglie questo alone di suggestione quindi i fenomeni illusori le cattive interpretazioni esistono sempre però non corriamo il rischio di fare di tutta l'erba un fascio e quindi di buttare via tutto dicendo è tutto falso no ci sono sì delle cose false magari molte ma ci sono anche delle cose vere che oggi finalmente possiamo iniziare a misurare concretamente esatto e sulle quali poi verranno fatti degli sviluppi sicuramente vogliamo capire un attimo come struttureremo appunto questa trasmissione con il pubblico che ci sarà l'11 di novembre sì allora la trasmissione chiaramente ce la faremo negli studi sotto che prima ci hanno fatto visitare il pubblico perché così c'è un'interazione nel senso che comunque io farò come nella serata che abbiamo fatto qua in giugno farò alcuni contatti con il mondo spirituale per le persone presenti quindi non sarà tutto basato su quelle parole due o tre almeno e quindi speravo che ci fossero persone come dire nuove cioè che non conosco perché così è tutto più facile per me nel senso che non hai informazioni già tue non conosci la persona quindi ciò che arriva è più naturale ed è più vero per me non è elaborato dalla mente diciamo così e quindi fatto questo e nel mentre Daniele farà le sue misurazioni farà foto eccetera vediamo anche che cosa viene fuori e abbiamo modo dopo di fare la trasmissione con quelle informazioni e il pubblico magari fare anche domande proprio lì perché siamo comunque in diretta quindi potrebbe diventare veramente un scusami in modo pacato serio quindi chi può essere a favore chi no poi vedremo perché non sappiamo neanche che risultato avremo perché è una cosa fatta in diretta non preparata prima quindi il contatto Luigi non saprà non sai adesso come sarà no io non so se misurerò qualcosa di importante o se non misurerò nulla di particolare lo vedremo perché non è automatico che ciò avvenga se saremo fortunati ci sarà anche la presenza di una fisica in studio che potrà darci anche delle magari una sua una sua opinione una sua opinione se potrà venire verrà e anche perché se ci saranno degli scettici è giusto che ci sia anche un fisico che risponda in termini concreti esatto intanto abbiamo già una primissima prenotazione annoteremo un numero di telefono ecco lo rammento ancora se vi foste collegati adesso per partecipare siccome naturalmente per poter far qualcosa che abbia un senso e comunque possa andare bene in diretta gli ospiti presenti non saranno più di una decina 10-15 al massimo per cui non è che c'è tutto sto tempo tutta sta possibilità per decidere di prenotarsi e partecipare per dare una come dire un'ulteriore possibilità un'idea che prima ha dato Moreno è stata questa 12 persone riusciamo a mettere come dire visibili in modo che possono qualcun'altra anche se stanno fuori in quadratura ad esempio quando ci sono i contatti a volte ci può essere c'è l'informazione magari anche per l'altra persona se corrisponde se dovesse alzare la mano dopo la facciamo rientrare e diamo la possibilità che possa ricevere la comunicazione il messaggio per l'amor del cielo esatto per cui se non avete la possibilità di andare a prenotarvi appunto sulla pagina facebook di dimensioni conosciute perché magari non avete dimensioni sconosciute mi stavo incartando con le tante S dimensioni sconosciute perché magari non avete un accesso a facebook erano queste le S sulle quali stavo andando al risparmio di S e allora mandate un sms appunto con la richiesta di prenotazione al 342 13 01989 di sicuro almeno da qui alle 14 quindi e ricordiamo per martedì 11 fra le 13 e le 14 è arrivato però un altro sms che dice in stato di trans come sono le vibrazioni emesse hai mai fatto test? allora in fatto dei test sono delle persone in uno stato modificato di coscienza e di trans vigile una trans profonda purtroppo non l'ho ancora sperimentata anche perché medium che hanno una trans profonda proprio come io l'ho osservato in passato ultimamente non ne ho più incontrati quindi da quando ho questa tecnologia non sono più riuscito a vedere cose di quel tipo come anche mi manca che sarebbe molto interessante vedere le persone in ipnosi le persone anche in uno stato di coma che vibrazioni emettono le persone che dormono che lo so già ho già classificato questo aspetto quindi c'è ancora molto da fare ho visto delle persone in stato di trans però una trans semi vigile che chiaramente cambiano cambiano le frequenze di vibrazione questo sì c'è ancora da capire tanto perché non ho un mentre su altre attività ho un database ormai di oltre mille persone quindi un'esperienza acquisita che mi consente ben chiaramente di stabilire cos'è uno stato rispetto ad un altro sulla trans ho ancora poca esperienza non ho fatto molte cose anche perché poi mi verrebbe da fare l'avvocato del diavolo se come dicevi prima siamo in grado di con la nostra mente comunque di modificare alcune cose come appunto la questione dei chakra caldo e freddo non potrebbe avvenire la stessa cosa per chi è in stato di trans persone che sono in trans semi vigile addirittura rallentano le proprie vibrazioni fino al punto che osservato in questo contesto vibrazionale la persona vista nell'ambiente si vede che la persona diventa una vibrazione omogenea con tutto quello che lo circonda tanto da essere quasi irriconoscibile come se non esistesse in realtà diventa un tutt'uno con l'ambiente e questo mi fa pensare che mi fa ipotizzare come qualche qualcuno ha già ipotizzato che noi in realtà siamo energia solida quindi vibrazioni energetiche solidificate e quindi siamo in un tutt'uno ecco perché quando osserviamo una persona in uno stato molto modificato di coscienza questa persona quasi ci sparisce la telecamera non la vediamo più diventa un tutt'uno con l'ambiente che stiamo osservando una realtà diversa da quella ottica visibile sicuramente molto interessanti tutte queste varie sfaccettature da comprendere da comprendere assolutamente quindi allora ritornando appunto a quello che sarà la trasmissione dell'undici sia che ci siano scettici sia che invece ci siano persone curiose che magari vogliono porre delle domande che durante la trasmissione per un motivo o per l'altro non hanno modo coraggio di porre e c'è comunque appunto la possibilità di vedere sia la parte del lavoro appunto di Luigi sia la parte del lavoro di Daniele per cui avere proprio una testare con mano viene da dire sì fare domande interagire perché a noi quello che ci piace è quello di non avere un pubblico assettico che osserve e basta ma un pubblico che si chiede che si domanda che fa delle critiche anche costruttive si spera non critiche tanto per per farle insomma ma perché quando c'è un interesse le persone osservano una cosa si chiedono ma perché questo si vede questo perché Luigi ha detto questo perché questo serve per comprendere le cose serve un confronto che sia un confronto oggettivo e serio ecco sì alla fine voglio dire quello che si fa quando si parla anche di guarigione quando si fa una trasmissione magari come quella che faremo o quella serata che abbiamo fatto qua il discorso non cambia mai cioè siamo sempre come dire siamo sempre tutti nella stessa barca cioè quando soffriamo per la perda di qualcuno abbiamo delle esigenze quando soffriamo perché stiamo male abbiamo delle esigenze il comprendere come alcune cose possono funzionare perché sinceramente io ce lo vedo io giro vado faccio seminario insomma vedo che tante persone non hanno la consapevolezza di come le cose stanno ma non perché siano ignoranti perché non non hanno accesso a certe informazioni perché non si sono molto informati o bravissimo o mai interessate a volte cambiare questo punto di vista veramente cambia tutto cambia la vita cioè a volte accadono cose se sei disponibile che in questo momento nemmeno immagini cambia anche proprio io sono dell'idea anche parlandoci di guarigione senza cominciare a dire si guariranno quelle malattie e quelle altre però credo che determinate cose visto che come dire l'ho potuta vedere con i miei occhi potremmo trattare l'energia come dire un po' a nostro piacimento io ho idea che la persona possa proprio muoverle e cambiare qualcosa sul piano fisico quindi sul corpo fisico in questo caso intendo perché il corpo fisico già ora interagisce con queste energie quindi perché non utilizzare non manipolare il fatto di pensare che non ci riusciamo o che non sia possibile è un limite della mente cioè bisogna smetterla di mettere la mente come come dire come fattore primario cioè è la mente che determina le nostre scelte assolutamente no se noi vogliamo possiamo fare delle cose veramente incredibili la mente cieca come quella che abbiamo perché la nostra mente è condizionata dalle nostre precessioni che sono limitate noi abbiamo un 5% sì e no della percezione della realtà esattamente esatto poi naturalmente ricordiamo sempre che in queste nostre trasmissioni noi non dobbiamo vendere assolutamente nulla e che comunque c'è anche chi su questi argomenti è talvolta un po' ci marcia quindi in ogni caso bisogna fare attenzione stare in orecchia non prendere per oro colato quello che viene detto dal primo che chiede dal primo santone della situazione quindi attenzione io mi ricordo di guarigione una persona che era stata a Lourdes andò tra l'altro su una televisione televisiva importante non per fare pubblicità ma era comunque vale la pena di dirlo andò proprio su porta a porta e questa persona aveva il bacino che era distrutto il bacino la parte ossea data a Lourdes si è ricostruita il bacino non c'è una spiegazione infatti è conoscettico per non ammettere che ci sia stato un intervento divino di qualche non spiegabile scientificamente ha detto ma sarà stato un caso di autoguarigione ma già affermare che esista un autoguarigione cioè l'importante non è chi è che compie questo miracolo l'importante è quello che accade che avvenga e sul fatto che avvengano queste cose insomma non è certo la si chiama autoguarigione o la si chiama in un altro modo c'è chi appunto come dicevi tu Luigi l'ultima volta c'è chi da anni che non va mai che non prende mai una medicina perché è fermamente convinto nell'autoguarigione del corpo noi se guardiamo oggettivamente i fatti noi curiamo sempre il sintomo ma mai la causa ormai siamo abituati senza togliere nulla alla medicina perché ogni cosa io dico se Dio ci ha dato tutte queste belle cose che abbiamo dobbiamo utilizzarle c'è un momento per ogni cosa è tutto lì però voglio dire non bisogna neanche essere troppo sbilanciati dall'altra parte la possibilità che ha il corpo fisico di rigenerarsi a livello cellulare e a livello spirituale è immenso è enorme allora andare per forza a prendere la pastichina per vuol dire l'antibiotico che è stata ha salvato chissà quante vite però tutti quanti sappiamo che un abuso non fa sicuramente bene ma non fa bene neanche l'abuso di cioccolata voglio dire che ogni cosa dovrebbe avere un equilibrio però pensare che c'è soltanto quello c'è sto male o Dio vado fuori l'altra volta ho fatto questo esempio ho detto se devi andare in bagno non puoi dire guarda Daniele devo andare in bagno ci vai tu per me ci devi andare tu tu devi fare qualcosa se invece stai male vai dal medico tu mi devi guarire no comincia tu a pensare come e noi abbiamo tutte le risposte ma questo procedimento nel tempo l'abbiamo perso ci hanno abituato che c'è una medicina che c'è un medico quindi deleghiamo e releghiamo tutto questo ad altri invece l'autoguaglione parte proprio dalla consapevolezza che il mio corpo si adatta alla volontà dello spirito se io voglio guarire ci sono persone che sono guarite da tumore cioè che dicono eccetera e parlo di atteggiamento positivo di insomma tutto questo perché mi viene in mente un caso di un dietnamita che avevo letto che aveva perso un dito e che con la volontà siccome lui stava così male insomma dicono io non ho visto ho visto una fotografia non so se è vera o meno che il dito li sia ricresciuto e anche più lungo di come l'aveva prima ora questa capacità l'essere umano normalmente non ce l'ha però non è una cosa innaturale perché se pensiamo al mondo non so animale alfibio le lucertole per una coda si rigenera quindi non è una capacità insita noi esseri umani però non escluso che in certe situazioni particolari la mente possa anche compiere queste cose mi raccomando adesso non vorrei neanche andassimo su argomenti sì ma mi è venuto in mente è stato provato comunque scusami Maurizio che in certe occasioni hanno hanno visto adesso questo ce lo mi ricordo dove dove me l'han detto comunque che comunque ci sono le ossa anche in persone adulte dopo traumi eccetera ricrescono anche di un centimetro l'anno e questo ci riguarda un qualcosa di scientifico adesso mi scuso non ho l'informazione precisa poi magari ci informiamo e magari ci possiamo riportare quindi sono cose che accadono diamo la possibilità comunque diciamo quantomeno lasciamo aperta il dubbio alla possibilità che ciò accada tra pochissimo andiamo nuovamente in pubblicità per cui voi non andate via ma prima vi ricordo naturalmente 342 13 01 989 per mandarci i vostri sms sia per curiosità sia per naturalmente partecipare alla giornata aperta al pubblico quindi la trasmissione aperta al pubblico del 11 di novembre che quindi fra due settimane fra le 13 e le 14 rimanete lì e rientriamo in studio intanto state già vedendo alcune foto e le andiamo a raccontare tra pochissimo però prima c'è un sms al quale probabilmente appunto deve rispondere Luigi sembra un sms di una bimba che dice signor medium lei può anche vedere dove si trova la mia gattina che mi hanno rubato quindi invece non credo no questo questo vedi è proprio il discorso di cui parlavamo prima a volte conoscere come determinate cose possono funzionare sia da un punto di vista spiegato appunto da Daniele anche comunque da una parte più scientifica tecnica e anche spirituale cioè è semplice non è possibile in questo senso cioè dire adesso però accadono cose invece in certe situazioni con una certa predisposizione che ti permettono di accedere a delle informazioni questo sì questo senza adesso fare degli esempi tanto possono essere qualsiasi tipo di informazione spesso può essere informazione sulla persona che hai davanti ma perché c'è una volontà immediata diretta o anche puoi vedere cose che poi devi andare a verificare ma comunque si può accedere e comunque questo riguarda non la medianità ma riguarda come dire la parte più psichica la sensitività la parte sensoriale esattamente ecco invece io ritornerei se la regia ci viene in aiuto e riprende a mandare in onda le foto perché sono foto un po' particolari quindi andrebbero spiegate non mandate così e basta ecco ma ci sono due piedi velocissimamente quelli sono i miei piedi sono segnati da un penarello quel giorno ho fatto l'allineamento della colonna è una cosa che fa il nostro amico Lothar Gunther che è un guaritore spirituale tedesco che l'ho invitato tornerà il 17-18 novembre a Bologna poi c'è un appuntamento anche con il giorno prima e quindi insomma lui gira tutto il mondo senza toccarti diciamo che la colonna si allinea l'allineamento della colonna l'abbiamo detto l'altra volta ha tantissime come dire riscontri e anche sulla parte fisica l'allineamento della colonna per me è un salto quantico cioè ti fa stare già in un altro modo c'è una rigenerazione cellulare secondo me però il lato fisico come tutti gli altri che abbiamo detto che interagiscono con le energie c'è un riscontro la mia colonna aveva due centimetri e mezzo di differenza a parte le scapole il bacino ma nei piedi si vede con il pennarello un attimo dopo soltanto facendo così senza essere toccato e l'ho visto in centinaia di volte ecco subito dopo in una frazione di secondo torno a pari questa cosa a me personalmente io parlo del mio così non ho bisogno di dire cosa è successo ad altri ha dato un grande beneficio soprattutto fisico perché io avevo comunque e ho problemi di schiena che comunque Daniele insomma c'è che sono tutti quelli che mi conoscono quindi negli ultimi mesi veramente per me è stato un rinascere quindi da quando tu l'hai fatto hai avvertito un beneficio che è durato comunque nel tempo va sempre migliorando è quello che io parlo perché non ho ancora fatto ma lo farò anch'io anch'io lo farò esatto lo farò per cui dopo avremo tre esperienze e ciascuna racconterà la sua per cui per questo che prima ho detto a volte queste energie stiamo cominciando a capire che tac istantaneamente alcune cose possono accadere e sono tutte a nostro beneficio io dico perché dover utilizzare la mente per dire no non è possibile quello mi ha detto lasciamo andare poi può anche darsi che nella nostra vita non cambi nulla ma non sarà certo peggio di com'è questo lamentarsi sempre andare sempre incontro al vittimismo no diamo possibilità a noi stessi che alcune cose accadano cioè io vedendo persone che hanno fatto ora dico l'allineamento perché stiamo parlando di quello ma ci sono mille modi di ricevere e di dare guarigione sono persone che c'è una signora che ha avuto un ictus due anni fa mi diceva poi forse l'ho anche detto quando sto in piedi ma con gli occhi chiusi se mi sbilancio un po' a destra cado perché l'ictus mi ha lasciato anche questa cosa ha detto sono andata a casa appena fatto l'allineamento stavo con gli occhi chiusi con il solo piede destro e non cado più adesso non è che tutti coloro che hanno avuto un ictus possono avere questa cosa cioè si parla soltanto che il beneficio per come noi riceviamo questo tipo di guarigione ha un effetto diverso da persona a persona ma certo ognuno risponde da persona a persona ma e lo chiedo a entrambi dipende anche se si è più o meno scettici in questo caso sull'allenamento della colonna la colonna si allinea comunque quindi il fatto di essere scettici e quindi tendenzialmente magari chiusi perché poi lo scettico non è solo una questione mentale cioè è anche una questione mentale può sfociare anche nella patologia da scettico si adesso lì si esagera però stavo pensando siccome abbiamo parlato del tenere aperti canali che ti offre cosa che ti offre appunto diverse possibilità se uno è scettico tendenzialmente anche chiuso e quindi il tener chiuso tu dici con l'allineamento della colonna è indifferente in questo caso l'allineamento della colonna avviene comunque io ho visto un finanziere che c'era anche lui non sto a fare nomi che è meglio che era un po' scettico e che effettivamente ha avuto un beneficio che era visibile sempre sull'allineamento della colonna non era magari così scettico nel senso di un proprio ottuso chiuso al 100% per cui non lo so nei casi specifici io l'ho visto due volte all'opera però mi ha veramente incuriosito e la cosa migliore è provare infatti lo proverò anch'io perché devo tentare ok quindi adesso avremo la possibilità appunto di vedere entrambi ma quindi visto che siamo caduti su questo argomento come avviene che ci si sdraica appunto c'è una misurazione della differenza si si vengono semplicemente misurate le scapole perché a volte c'è una differenza poi si vedono si vede il vaccino quindi a volte ce l'hai storto altre volte piegato da una parte oppure le spalle quindi velocemente però fatta bene questa misurazione poi quando vai sul lettino vieni misurato sia stando seduto con le gambe in avanti e dopo sdraiato perché puoi avere anche una rotazione per cui risulta prima un piede in avanti e poi l'altro e quasi tutti noi abbiamo la colonna un po' non a posto c'è poco da fare e quindi ti trovi alla fine una differenza questa differenza viene colmata subito e il corpo come dicevo prima non può fare altro che adattarsi alla volontà dello spirito dopo alla fine lui ripete le misurazioni pubbliche e mostra come le spalle magari sono andate a posto il bacino sono perfettamente senza i piedi quindi è un fatto che sembra oggettivo mi chiedo quanto dura ma visto che Luigi l'ha provato e tutt'oggi dice che è miglioramento lo terremo monitorato per sapere visto che poi lo faremo anche noi lui a qualche mese di anticipo io l'ho fatto i primi di luglio appunto quindi sapremo anche noi sulla base di questo intanto c'è un sms spiritoso al quale rispondo io perché dice ma facendo questa cosa sulla colonna può andare via anche la negatività mi viene da dire guarda per far andare via la negatività tu quando ti alzi alla mattina ti guardi allo specchio ti fai un sorrisone un complimento è il modo migliore per far andare via la negatività e noi invece siamo in chiusura proprio chiusura chiusura io ringrazio Daniele Gullà e Luigi Zumpano grazie a voi grazie a te e come sempre questo trio che ormai si è creato beh a questo punto il prossimo appuntamento è proprio martedì 11 martedì 11 vi aspettiamo martedì 11 vi aspettiamo fra le 13 e le 14 qui negli studi di Punto Radio continuate a scriverci l'email è produzione chiocciola programmazione programmazione mi correggono dalla regia programmazione chiocciola punto radio tv punto com quindi scrivete per partecipare oppure andate direttamente sulla pagina facebook dimensioni sconosciute anche da Maurizia Cocchi per oggi è tutto ciao ciao punto zero il tuo magazine quotidiano punto zero oggi è dimensioni sconosciute qui è tutto tutto qui è qui è qui è tutto Grazie a tutti.